...e sta affascinando tutto il pubblico, è accompagnato da cavalieri e allora accogliamo con un grosso applauso la bellissima Talisca Erika che ci proporrà due pezzi, due pezzi meravigliosi del suo spettacolo, guardate la magnificenza, la bellezza, la simpatia, il sorriso di questa affascinante Talisca davanti ai vostri occhi. Naturalmente questa Talisca è stata concessa dal nostro carissimo Ponte Verde, grazie a lui che ci concede questa bellezza e sta proponendo a questo pubblico meraviglioso. Quindi se la regia è a posto possiamo andare avanti? Intanto. Mette il palco mobile. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.